Il fatto nasce da una costola dell'Unità, basti pensare che io e Marco Travaglio siamo stati quelli che all'inizio, e Marco era un commentatore dell'Unità, che hanno cominciato a concepire l'idea di un giornale tutto nostro. E poi bisogna ricordare che molti dell'Unità sono venuti a lavorare con noi e formano oggi la struttura portante del giornale. Come prende questa quotazione oggi? Beh, è veramente un segnale positivo per noi, certamente, ma io penso per tutta l'editoria italiana. Non è vero che i giornali stanno moribondi, cioè hanno i loro problemi, però io credo che l'informazione in generale in Italia possa avere una vita ancora ricca di soddisfazioni. Bisogna saper cambiare, bisogna sapersi diversificare, come si dice, e noi stiamo cercando di farlo.